Deve essere l'amico di Pasquale. Buongiorno, in che cosa posso essere utile? Beh, credo che veramente fosse già a conoscenza di tutto, no? In effetti l'amico di Pasquale mi ha accennato qualche cosa. Infatti lui mi ha detto proprio di venire qui perché... perché voi vi occupate di... come dire... di finanziamenti ufficiosi. Eh beh, magari forse non è proprio questa la giusta definizione, ma ci possiamo avvicinare. Volete accomodarsi, prego. Come le dicevo, forse la denominazione di finanziamenti ufficiosi non è esattamente quella giusta, ma ci avviciniamo. Magari non testualmente, no? Eh. Ma credo che il concetto sia questo. Più o meno.